Tutte le rotture che sono avvenute dalla fine del 2018, cioè da quando sono state distribuite, tutte le fondine che hanno avuto rotture si sono rotte in questo punto. È questo supporto che aggancia la fondina al cinturone. Io spero che facciano degli accertamenti, o la plastica, cioè la mescola della plastica, dei tecnopolimeri utilizzati è una mescola di scarsa qualità, oppure c'è qualche altra ragione. Dopo la tragedia che si è consumata all'interno della questura di Trieste e i due episodi, uno in Toscana, Forte dei Marmi, l'altro a Torino, dove si sono rotte delle fondine, torna a riaccendersi il dibattito sulle dotazioni del corpo della Polizia di Stato. Il pericolo reale è che tu perdi la pistola. Cioè praticamente se tu, che ne so, durante una colluttazione, durante una normale attività, perdi, ti si stacca questo supporto, ti cade la pistola in terra. E quindi non sai più come fare, cioè non hai più le mani libere per poter fare quello che devi fare, per, che ne so, fermare una persona, per ammanettarla, per quant'altro possa servire. Può anche succedere un dramma. E può anche succedere una disgrazia. Le criticità nelle nuove fondine erano già state denunciate dal sindacato nel dicembre 2018. Sono stati prodotti 40.000 pezzi da distribuire ai poliziotti, solo che i poliziotti sono 95.000. Quindi le hanno distribuite in prima istanza al personale che svolge attività operativa. E quindi la scelta è stata giusta. Le hanno date contate. Quando hanno cominciato a verificarsi le prime rotture, non c'erano le sostituzioni. Quindi, nel caso del collega di Trieste, così come in altre situazioni in tutta Italia, se tu rompi la fondina, non hai la sostituzione e devi tornare ad utilizzare quella vecchia, che non ha alcun tipo di sicurezza. I primi giorni di ottobre, fortunatamente, una tragedia è stata sfiorata in Toscana, a Forte dei Marmi, dove la fondina di un agente si è rotta e l'arma è così caduta a terra, il tutto nel corso di una collutazione con un uomo armato di due grossi coltelli da cucina. Pochi giorni dopo, un episodio analogo a Torino, dove la pissola di un poliziotto è caduta in mezzo alla folla, dopo la rottura di un'altra fondina. Non so dove andremo a finire. Certo che se non si provvede a mettere mano al sistema normativo, fondamentalmente il problema è questo, nei prossimi anni avremo seri problemi. E non solamente noi, di conseguenza, il problema si riverbera anche sulla cittadinanza.